Vostro onore, le anticipazioni dell'ultima puntata. Buonasera a tutti, andiamo a vedere gli spoiler dell'ultimo episodio della fiction che vede Stefano Corsi nei panni di protagonista. L'ultimo appuntamento è previsto per lunedì 21 marzo. Matteo verrà trovato dalla polizia nella stanza di Diego Silva e a quel punto dovrà dare delle spiegazioni. Il cerchio si stringe intorno a lui e a suo padre. Sara ha dei sospetti su di loro e a questo punto padre e figlio decidono di scappare all'essero. Maddalena viene messa sotto pressione dalla polizia ma copre Vittorio. A un certo punto però accade qualcosa che cambierà gli eventi. Matteo cambia idea e non vuole più scappare, vuole assumersi le sue responsabilità e così si presenta in commissariato accompagnato dalla nonna Anita. Vittorio è sorpreso, ha fatto di tutto per proteggere il figlio e adesso lui si costituisce. Ma Matteo è deciso nel raccontare tutta la verità. Vittorio, dal canto suo, deve fare una scelta. Deve decidere se accettare il posto di presidente del tribunale di Milano oppure no.